Oltre a Diabigua, Stamacchia, Barone e Civilleri, si contano altri tre calciatori del Taranto che hanno terminato in anticipo la stagione. Si tratta del difensore Zullo e del centrocampista Marzili, i quali entrambi in diffida hanno rimediato un cartellino giallo sabato scorso, e dell'attaccante Pacilli, che sul finire del derby contro il Bari è stato espulso per un fallo su botta a pallone distante. All'ex Lecce, protagonista di un'annata assolutamente negativa, sono state combinate due giornate di stop. Ai box per una sola giornata, invece, Zullo e Marzili. 1.500 euro di multa inoltre al Taranto per esplosione di petardi e lanci di bottigliette d'acqua. In attesa di capire il futuro dell'area tecnica rosso-blu, intanto, la terza prepara la trasferta di Picerno, ultimo atto della stagione che ha visto gli Ionici conseguire la salvezza con due turni d'anticipo. L'allenatore Tarantino potrebbe accordare fiducia a coloro che finora hanno trovato meno spazio, su tutti l'oliva tra i pali e Turi nel ruolo di esterno basso a destra. Possibili chance a partita in corso anche per i giovanissimi Bisconti e Maiorino, entrambi sporadicamente apparsi nelle liste dei convocati relative ai precedenti incontri.